che ci hai fatto vedere? che roba è questo qua? questi sono tutti i componenti originali dell'epoca che io negli anni ho comprato poi messi via e adesso mi ritrovo un bel pacchettino storico che penso che in Italia non ce l'ha nessuno la tua collezione storica la tua collezione di pezzi originali che roba è questo? questo è il nastro manubrio intera bei colori però erano antichi vedi perché c'è ancora la ditta prodotti cioè non è professionale ma c'è ancora la ditta dell'epoca ma colori veramente moderni sono i nastri manubrio che andavano da nero a sfumato allora ti è risultato utile questa cosa qua per la bici di Andrea che gliela hai messo a posto? queste sono le guaine originali bianchi ho vari guaine di tutti i colori c'è tanta roba ammazza che colori che usavano però questi degli anni 90 questi anni 90 questi anni 90 questi anni 50 questi anni 50 e roba è batti catena e batti catena in alluminio e le guaine marroni e io ci faccio questi lavori di restauro tipo questa che la sto sistemando questo sistema questa qua che stai facendo ce lo fai vedere dopo che lavoro stai a fare? si devo mettere tutto nuovo le corde nuove le guaine nuove i zoccoletti nuovi e le corde del cambio nuovi allora lo chiamano così corde corde bici d'epoca così almeno uno dopo lo prova questa è una bici che ho finito che ho finito adesso si di mettere gli adesivi hai trovato pure gli adesivi originali li hai trovato? si e questi sono tutti questa originale si si tutto originale non c'era niente questa no no questa l'ho riverniciata sistemata si tutta quanta io l'hai registrata quindi questa si può prendere si può usare si si questa è come nuova è diventata mi sa che andrei che adesso però che c'è una bicicletta elettrica flyer mi sa che questa qua la tiene appesa si può tenere appesa si ma queste tanto è più da collezione poi se uno ci vuole fare le passeggiate ce le fa chiaro e questo invece ci fai il video adesso dai ci fai vede come gli metti la corda a questa ok dammelo che ti interrompo io allora tra poco anche il video di come mette la corda a sta bici d'epoca maurizio le corde dei freni si chiamerà corde dei freni in bici d'epoca maurizio morelli così lo potete andare a cercare prossimamente